Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Stefano De Martino ha compiuto 35 anni e allo scoccare della mezzanotte con amici e parenti ha festeggiato il compleanno in una pizzeria di Napoli. Un'allegra tavolata ha accolto il conduttore TV in un locale del Rione Sanità dove si sono dati appuntamento i familiari. Presente anche il nipotino e gli amici che hanno intonato canti e sventolato i tovaglioli per gli auguri a Stefano. Per lui diverse torte con una bella candelina da spegnere. Stefano De Martino è apparso commosso e felicissimo alla sua festa di compleanno organizzata dai parenti nel cuore del capoluogo campano. Un'allegra tavolata lo ha accolto tra pizza e specialità tipiche mentre gli invitati intonavano canti e ritornelli della tradizione napoletana. Quando è arrivato il momento di spegnere la candelina il conduttore TV si è mostrato emozionato e ha preso tra le braccia il nipotino per la foto di rito. Assente alla festa il figlio Santiago che vive a Milano con Belen in questi giorni è impegnato con la scuola. Per Stefano De Martino è un periodo di grande successo. Anche nella vita privata sta vivendo in serenità la ritrovata armonia con la sua ex Polen Rodriguez. Appena può va a Napoli per ritrovare la famiglia e gli affetti, ma la sua priorità è il figlio Santiago che vive a Milano con la mamma. Per lui prende treni aerei anche solo per andarlo a prendere a scuola. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.